Buongiorno Ratzinger, o come ti chiama la mafia, Benedetto! O come ha sentenziato la magistratura, assassino! Poiché gli umani mi reclamano fortissimamente, oggi grandinano insulti e malarca. Sulla terra è tutto pronto, orchestrina, tappeto rosso e puttane a fica de fora, magari le stesse che mi hanno mandato a morire su sano. Inoltre, pregasi Spinton e Barack Obama di accomodarsi davanti alla Corte Suprema. A proposito, come sta Michelle? Ci vediamo nei prossimi. Videomessage!